Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradale regionale. Segnaliamo nebbia a banchi tra Firenze Sud e Incisare Gello e tra Chiusi e Fabro, visibilità 100 metri. Qualche problema in Fipili dove troviamo due chilometri di coda per traffico tra Montelupo, Fiorentino e Ginestra verso Firenze. Sempre verso Firenze rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandicci in carreggiato opposta a code in uscita a Firenze Scandicci. Il traffico urbano del capoluogo rallentamenti sulla direttrice Portal Prato, Fortezza, Piazza della Libertà. Traffico sostenuto anche in zona Viale 11 Agosto, Via di Novo, Livia Sestese. Muoversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!